Calci, pugni e schiaffi, oltre a umiliazioni pubbliche e tirate di capelli per strada, è stata questa la quotidianità di una donna originaria di Roggiano Gravina, che per lungo tempo ha dovuto subire le vessazioni e violenze continue cui il compagno, un 44enne di Acquapesa, l'ha sottoposta per diverso tempo. A seguito del terribile racconto della vittima, i carabinieri della stazione di Cetraro, su disposizione della magistratura, hanno tratto l'uomo in arresto, internandolo immediatamente nel carcere di Paola. Dalle parole emerse durante la denuncia, la donna viveva in uno stato di costante terrore, costretta a girare con una forbice nella borsa per il timore delle aggressioni in strada. L'uomo aveva addirittura indotto la vittima a prostituirsi in un periodo di ristrettezze economiche, al quale sono seguiti anche episodi di violenza sessuale, durante i quali la vittima sarebbe stata streggiata, pestata e minacciata anche con un ferro da stiro. Il giudice per le indagini preliminari e il pubblico ministero, capendo la gravità della situazione, hanno agito seguendo la disciplina prevista dal codice rosso, che permette di velocizzare l'avvio del procedimento penale, proteggendo maggiormente le vittime.